Tutti ai posti di combina Il combattimento Bersaglio avvistato Mira precisa attivata La nostra squadra ha catturato l'area Ricarica veloce attivata Bersaglio perforato Belivolo nemico in arrivo Belivolo nemico in arrivo Belivolo nemico in arrivo Siluri nemici avvistati Già mi ha colpito Delivolo nemico in arrivo Bersaglio colpito Siamo sotto attacco Mira precisa attivata Già mi hanno colpito Ricarica veloce attivata Abbiamo colpito il nemico Belivolo nemico in arrivo Siluri La nostra squadra ha catturato l'area Attimo lavoro Mira precisa attivata Ricarica veloce attivata Ricarica veloce attivata Belivolo nemico in arrivo Siluri Belivolo nemico in arrivo Belivolo nemico in arrivo Bersaglio agganciato La nostra squadra sta per vincere Bersaglio 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 Bersaglio